Come commenta le voci che vogliono Prandelli lontano dalla nazionale dopo il mondiale? Ma che c'è solo l'obiettivo, una qualificazione intervenuta, di programmare il futuro. Poi quando ci sarà la possibilità di approfondire il futuro cercheremo di capire reciprocamente. Da parte nostra il problema naturalmente non si pone. Si tratta di capire se Prandelli farà la scelta strategica di voler tornare ad allenare tutti i giorni, cosa che la nazionale non gli può garantire. Oppure se ovviamente confermerà questo tipo di impegno all'interno di un rapporto di primissima qualità reciprocamente. L'incontro con la Chiange è un'occasione persa per Malotelli? Ma abbiamo già chiarito, era un incontro in cui non c'era un obbligo di presenza, era un'opportunità colta. Malotelli ha salutato la ministra a Bologna in occasione di Italia-Sanmarino, quindi il discorso è chiuso. Grazie. Grazie.